allora buongiorno benvenuti a tutte a tutti a questa prima lezione di programmazione d'oggetti questo è il primo corso con i cognomi da a a din dim in realtà i tre corsi paralleli in italiano sono assolutamente identici in termini di programma e l'esame sarà esattamente lo stesso i laboratori saranno fatti in comune quindi non c'è grande differenza iniziamo a vedere che cosa in che cosa consiste il nostro corso di programmazione d'oggetti allora innanzitutto mi presento io sono Marco Tocchiano e sono titolare di questo corso qui vedete qualcuno dei miei contatti ecco il numero di telefono probabilmente sarà poco utile perché in questo momento non sono praticamente mai in in ufficio però ovviamente potete contattarmi via mail mi aiuteranno in questo corso Diego Monti e Simone Leonardi che hanno comunque già esperienza in questo corso quindi dovrebbero riuscire ad aiutarvi nel migliore dei modi possibili come cercheremo di lavorare in questo corso allora ci sono sostanzialmente tre fasi un prima un durante e negli altri momenti prima delle lezioni l'idea è che io vi carichi delle dei piccoli video pre registrati in maniera sincrona che voi potete guardare prima delle lezioni durante le lezioni io riprenderò sostanzialmente questi argomenti magari saltando gli elementi meno importanti e cercando di avere un approccio un po' più pratico dando modo a voi di fare domande e cercare di chiarire tutti i dubbi che voi avete e poi ci sono tutti gli altri momenti in cui voi potete fare domande come funzionano i video a sincroni sono pubblicati in anticipo ci sarà una notifica essenzialmente sul su slack se vi iscrivete al canale youtube che vi menziono tra poco avrete notifica anche da lì durante queste lezioni pratiche diciamo in sincrono ci sarà oltre a riepilogo esempi quindi un aspetto un po' più pratico in cui voi possiate capire i dettagli e soprattutto evidenziare eventuali dubbi o incomprensioni eventualmente ci saranno momenti di discussione se ci sono degli argomenti da da un po' che si prestano meglio alla discussione e in qualunque momento utilizzando il workspace slack voi potrete fare domande di chiarimento quindi oltre a questo strumento di classe virtuale oggi ce l'abbiamo lo abbiamo attivato con con zoom tendenzialmente la tenero a comando di utilizzare bbb ma se ci sono altri meccanismi che possono essere più più utili vanno bene anche quelli io l'anno scorso ho utilizzato di tanto in tanto degli streaming con con youtube quindi se pensate che quelli possano funzionare meglio utilizzeremo anche anche quelli assolutamente aperto a suggerimenti e oltre a queste classi virtuali ci sarà slack che è quello che permette di fare un'interazione continua eventualmente ci possono essere se necessario delle interazioni individuali quindi è possibile parlare direttamente uno a uno eventualmente attivare anche delle delle chiamate video se ci sono problemi che non è impossibile risolvere semplicemente parlando su via testo il canale slack è quello che vedete evidenziato qua se cliccate su quel link vi ritrovate a poter fare l'iscrizione al workspace ricordatevi che il workspace è configurato in modo da accettare le iscrizioni da parte di chi ha un'email del politecnico quindi non utilizzate le vostre mail extra politecnico perché non verranno approvate quindi s matricola chiocciola studenti.polito.it è quella che dovete utilizzare qui slack vi permette di mettere dei nickname più o meno fantasiosi quindi vi chiederei se non di utilizzare lo standard matricola nome e cognome quanto meno di mettere il nome in modo che quando c'è una domanda sia possibile riferirsi a voi direttamente quanto meno col nome slack è pensato per le interazioni asincrone e quindi avverranno durante tutto il corso qui potete fare domande nel momento in cui vi sorgono dei dubbi non aspettatevi un'interazione continua 24 ore su 24 7 giorni su 7 quindi se fate delle domande durante il giorno è probabile che nel giro di qualche ora vi venga risposto se fate domande alle 3 di notte ecco probabilmente vi risponderemo il giorno dopo il weekend è pensato per essere un momento di riposo sia per voi che per i docenti e quindi di nuovo non aspettatevi una risposta immediata se fate una domanda nel weekend ma ovviamente se state studiando nel weekend e vi viene un dubbio fate pure la domanda il prima possibile riceverete una risposta tutto tutti i contenuti del corso sono disponibili su questa pagina ci sono ovviamente tutti i lucidi che sono già stati pubblicati in anticipo mancano forse un paio di argomenti più legati agli argomenti di ingegneria del software che verranno pubblicati poi alla fine perché c'è un piccolo po di revisione da fare ancora ovviamente troverete tutti i link necessari e le video lezioni sono disponibili su una playlist youtube che potete accedere tramite quel link che vedete lì oppure il link che trovate sulla pagina del corso le lezioni saranno pubblicate sia sul portale quindi nel mondo standard che sulla playlist in questo modo se ci sono malfunzionamenti da una parte dall'altra dovreste riuscire ad avere accesso il materiale quindi i lucidi che utilizzo come ad esempio quelli che state vedendo in questo momento oltre a essere pubblicati su questa pagina sono pubblicati sul materiale all'interno del portale se avete un account dropbox dovreste riuscire a collegarvi e quindi vederlo direttamente in ogni caso il doppio canale dovrebbe garantire una buona affidabilità anche a fronte di malfunzionamenti che possono succedere durante durante il semestre ci sono un po di dettagli pratici perché questo è un corso di programmazione pratico per cui l'unico modo di imparare a programmare e programmare e quindi vi invito ma insomma essendo ingegneri informatici credo che sia ridondante dirvelo a cercare di svolgere esercizi e scrivere tanti programmi ok è l'unico modo di imparare prendere un po di confidenza con linguaggio che è nuovo rispetto a quello che avete visto l'anno scorso e cercare di avere un minimo di familiarità e riuscire a scrivere i programmi in maniera corretta e in maniera relativamente veloce su quella pagina ci sono informazioni su quello che il software di riferimento adesso ci arriveremo velo velo riepilogo le modalità d'esame come è possibile avviare i laboratori i laboratori non inizieranno questa settimana quindi le ore che voi vedete a calendario il mercoledì per questa settimana e la prossima non ci saranno i laboratori inizieranno poi dalla terza settimana sostanzialmente perché è necessario darvi un po di concetti di base e di conoscenze prima di poter affrontare i primi laboratori e un po di altri dettagli pratici che di cui parleremo più avanti su cui in questo momento non mi soffermo più di tanto l'orario allora qui è sbagliato scusatemi e oggi dalle 8 e 30 alle 11 e 30 sì scusate mercoledì dalle 8 e 30 allora c'è c'è un pasticcio scusatemi perché il giovedì dalle dalle 10 alle 13 il secondo orario e poi il mercoledì al pomeriggio il laboratorio quindi dalla terza settimana inizierà il laboratorio come organizziamo il corso gli argomenti di questo corso sono sostanzialmente due alcuni cegni di quello che è l'ingegneria del software quindi come si sviluppano i programmi quindi i metodi che vengono adottati per lo sviluppo dei programmi e poi il linguaggio di programmazione java che è un linguaggio probabilmente il più diffuso di programmazione orientata agli oggetti java sostanzialmente consiste nell'andare a capire qual è la sintassi del linguaggio quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare e capire quali sono le librerie standard che possiamo utilizzare voi finora avete fatto se non sbaglio il linguaggio c in c ci sono alcune librerie standard immaginate la libreria di input output la libreria standard stdlib in java le librerie standard sono molte di più e danno molte più possibilità rispetto al linguaggio c per quanto riguarda la parte di software engineering cercheremo di capire che cos'è il ciclo di vita del software quindi andremo a vedere come di solito si evolve un programma che andiamo a sviluppare e vedremo alcuni aspetti sul design dei programmi in particolare vedremo la notazione uml che è molto diffusa per andare a sviluppare programmi orientati agli oggetti e parleremo di come eseguire il test dei programmi e di quello che si chiama configuration management ovvero come possiamo gestire più versioni consecutive di un programma e anche qui vedremo alcuni aspetti pratici per quanto riguarda il design ho detto uml e lo applicheremo per andare a sviluppare i progetti che faremo in java per quanto riguarda il test in termini pratici all'interno di java c'è una libreria che si chiama j unit che permette di scrivere i test in maniera molto agevole e per quanto riguarda il configuration management vedremo un sistema di gestione delle versioni che si chiama svn probabilmente qualcuno di voi conosce git svn è una versione semplificata di git che è ancora molto diffusa e quindi adatta forse un po più di git a questo corso domanda le lezioni in presenza verranno registrate e caricate sul portale sì certo quindi tutte le lezioni anche quelle in presenza quindi in aula verranno verranno registrate altra domanda non c'è laboratorio ci saranno recuperi no sostanzialmente faremo le ore normali quelle ore di laboratorio sono veramente buche quindi per questa settimana la prossima sono sono liberi domanda le lezioni su canale youtube lo scorso anno coprono gli argomenti di questo semestre il programma non è cambiato c'è qualche piccola variazione adesso vivi che vi dico ma sostanzialmente il programma è lo stesso ovviamente ci sarà qualche differenza in termini di cadenza perché l'anno scorso eravamo compressi con una settimana in meno avevamo iniziato dopo qualche piccola differenza sui lucidi o sugli esempi però sostanzialmente il programma è lo stesso ok non vedo altre domande spero di aver chiarito tutto per quanto riguarda le lezioni in presenza volevo fare un poll però zoom fa capricce quindi non riesco a farlo sarebbe interessante magari lo faccio poi sul sul canale slack capire quanti di voi pensano di frequentare in presenza e quanti invece saranno a distanza come sapete da questa settimana siamo in zona arancione quindi le le situazioni della situazione della pandemia è leggermente peggiorata la detto proprio sinceramente quello che mi mette un po a disagio non è tanto venire in aula perché comunque le precauzioni che vengono prese al politecnico sono sono sufficienti c'è un bel distanziamento tra di voi e tra me voi quindi da un punto di vista di rischio è relativamente basso quello che mi preoccupa è piuttosto che in aula ci siano veramente poche persone poche decine di persone e la maggioranza di voi sia a distanza in questo caso io in aula non riesco a gestire bene gli schermi multipli come riesco a fare qui quindi nella mia postazione di lavoro e quindi sostanzialmente la lezione ovviamente viene meglio per chi è in aula perché sono siete direttamente presenti lì e ovviamente penalizza chi è a distanza per cui ovviamente questa settimana inizieremo con le lezioni in presenza come 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 previsto se il numero di persone presenti sarà molto basso io tenderei successivamente ne possiamo parlare a cancellare le lezioni in presenza non è questo non è un un invito a venire per forza in presenza altrimenti verranno cancellate e semplicemente cercare di dare il miglior servizio al numero maggiore di voi ok valuteremo durante durante le prossime settimane anche in funzione di come evolverà la pandemia quali sono gli obiettivi di questo di questo corso allora capire come si sviluppa il software e quindi se volete qui sono i cenni di ingegneria del software che faremo familiarizzare con quelli che sono gli strumenti di supporto per lo sviluppo quindi l'ambiente integrato di sviluppo che utilizzerete l'ambiente di test il sistema di controllo delle versioni la conoscenza degli strumenti è parte integrante dell'esame l'esame sarà un esame pratico e quindi se non sapete utilizzare gli strumenti siete impossibilitati sostanzialmente a svolgere l'esame quindi utilizzate gli strumenti seguitele i laboratori ci saranno soluzioni eccetera quindi se avete problemi per un particolare laboratorio un particolare particolare orario comunque avete il modo di recuperare ovviamente conoscere il linguaggio java che è un linguaggio molto diffuso e largamente utilizzato essere in grado di scrivere e fare i test di semplici programmi java i programmi java che scriveremo in questo corso sono ovviamente limitati in termini di funzionalità di dimensioni anche perché il tempo che non riusciamo a dedicare a queste attività e tutto sommato blocchi di qualche ora e quindi non possiamo sviluppare programmi di grandi dimensioni e imparare utilizzare quelli che sono gli strumenti di sviluppo quindi è importantissima la parte pratica oltre alla parte teorica gli strumenti che utilizzeremo sono questi allora abbiamo subversion che è un sistema di gestione delle versioni che inizieremo utilizzare vi spiegherò poi magari dalla settimana prossima ovviamente il linguaggio java che scusatemi il linguaggio java che è quello principale che utilizzeremo in questo corso j unit che è una libreria per eseguire i test di unità come suggerisce il nome eclipse che è un ambiente integrato di sviluppo in cui andremo a scrivere i nostri programmi eseguirli testarli quindi è un ambiente unico in cui riusciamo a fare tutto quello che serve per il nostro sviluppo e poi uml che lo unified modeling language che è un linguaggio grafico per andare a descrivere quelle che sono le strutture e l'architettura o il design del nostro programma uml non è pensato per java ma in generale è pensato per qualunque programma orientato agli oggetti quindi se vi ritroverete un domani a sviluppare con un approccio orientato agli oggetti programmi scritti in c++ piuttosto che python o csharp ecco uml potrà essere utilizzato anche in quel contesto uml in realtà un ambito di uso ancora più ampio ma noi ci concentriamo sul suo uso per descrivere quello che il design di un'applicazione orientata agli oggetti come quantità di ore abbiamo circa 50 ore di lezione tra lezioni pre-registrate e riepiloghi fatti in aula con con esempi ci saranno circa una quindicina d'ore legate all'ingegneria del software forse qualcuno in meno 35 40 ore legate a java ci saranno gli esercizi in aula quindi scriveremo assieme dei programmi di esempio oppure si vedranno le soluzioni dei laboratori e quindi sarà il momento per poter andare a discutere possibili varianti ricordatevi che stiamo parlando di programmazione quindi non esiste necessariamente una sola versione corretta per un esercizio ma esistono potenzialmente tante alcune migliori alcune peggiori quindi l'idea di cercare di andare a trovare quella che è la soluzione ideale però ci sono alcune varianti che sono comunque tutte accettabili e poi ci sarà la parte di laboratorio che sono una quindicina di ore il mercoledì originariamente le tre ore erano pensate per poter andare a gestire due squadre però non avendo problemi di capienza dei laboratori invece di fare due squadre un'ora e mezza ciascuna oppure a settimane alterne avrete tre ore in cui potrete lavorare tutti contemporaneamente con il supporto delle persone che vi seguiranno in laboratorio e ci saranno anche degli studenti che potranno rispondere alle vostre domande quindi avete ogni settimana queste tre ore con un supporto immediato durante quel laboratorio utilizzerete slack in cui potrete fare domande e riceverete risposte il laboratorio è unico quindi ci sarete voi del primo corso e quelli iscritti agli altri corsi con diversi cognomi e quindi siete tutti concentrati l'idea è che le risorse che abbiamo quindi le persone che sono a disposizione per aiutarvi durante il laboratorio invece di ripetere le stesse cose tre volte le dicono una volta sola e voi probabilmente avete le risposte prima rispetto a avere le persone suddivise in tre gruppi diversi quindi diciamo che nei due semestri precedenti la cosa ha funzionato abbastanza bene quindi cerchiamo di utilizzarla anche in questo in questo semestre ripeto i laboratori quindi il mercoledì pomeriggio inizierà dalla terza settimana laboratori ci sarà un'ora e mezza in cui c'è un docente che vi illustra il laboratorio e poi cerca di darvi le delle indicazioni vi da un po di supporto e poi ci saranno oltre al docente degli studenti che hanno una borsa di collaborazione che saranno lì apposta per darvi supporto sono studenti che hanno seguito il corso negli anni precedenti e quindi conoscono gli argomenti e quindi vi possono dare aiuto per qualunque aspetto sia un po più pratico che un po più teorico gli esercizi da svolgere sono sostanzialmente dei programmi noi vediamo un programma di partenza con una serie di funzioni vuote da completare e quindi voi dovete andare a completare queste funzioni e aggiungere tutto quello che serve per far funzionare il programma gli esercizi che vedrete in laboratorio sono strutturati esattamente allo stesso modo in cui sarà strutturato l'esame quindi se volete tutti i laboratori sono dei mini esami per questo motivo sono fondamentali per poter andare a superare l'esame finale quello che abbiamo visto negli anni passati è che chi segue regolarmente i laboratori e quindi li svolge nei tempi seguendo il passo alla fine riesce a conseguire voti decisamente più alti nell'esame finale non è necessario svolgere i laboratori necessariamente in quelle tre ore se avete altri problemi o altri impegni cercate comunque di svolgerli man mano che vi vengono assegnati poi su slack anche se non fate domande esattamente in quelle tre ore comunque una risposta la riceverete magari non immediatamente però cercate di seguire i laboratori in maniera regolare anche perché in quell'occasione voi imparate utilizzare gli strumenti quindi quelli che abbiamo menzionato prima eclipse subversion j unit che sono dei gli elementi fondamentali per sia i laboratori che poi l'esame ricordatevi che se all'esame avete dei problemi con questi strumenti perché non li sapete utilizzare e l'esame non lo passate probabilmente non riuscite neanche iniziare l'esame se non sapete utilizzare gli strumenti quindi vi raccomando almeno un laboratorio provate a svolgerlo perché è praticamente una specie di simulazione dell'esame prerequisiti ovviamente dovete conoscere un linguaggio di programmazione procedurale il c nel vostro caso dovreste sapere che cosa sono i tipi i tipi di data strato cosa che immagino sappiate da da apa non c'è una precedenza stretta nella superato l'esame diavato ovviamente conoscere gli argomenti è utile e sapere anche quali sono gli algoritmi di base durante il corso vi verranno proposti una serie di questionari di autovalutazione con una serie di domande a risposta chiusa quindi qualcosa che voi riuscite a svolgere in pochi minuti che servono per andare a verificare un po quelle che sono le vostre conoscenze quindi normalmente verranno proposti poco prima del di ogni laboratorio l'argomento del questionario sarà sostanzialmente lo stesso insieme di argomenti utili per svolgere il laboratorio e quindi è se volete un check in più vostro per poter andare a verificare che conoscete correttamente l'argomento e in caso negativo avere uno stimolo in più per andare a ripassare quegli argomenti prima del laboratorio non è uno strumento che verrà utilizzato per la valutazione quindi questi questionari non sono valutati ma non sono neanche anonimi nel senso che noi teniamo traccia di questionari perché ci serve come indicatore sul fatto che abbiate compreso gli argomenti correttamente comunque la maggioranza di voi abbia compreso correttamente gli argomenti in caso contrario ovviamente cerchiamo di andare a riprendere gli argomenti che non sono stati capiti correttamente in modo da mettere tutti in condizioni di poter svolgere gli esercizi correttamente software che cosa utilizzeremo in questo in questo semestre abbiamo bisogno di quello che è l'ambiente di esecuzione java e quello che utilizzeremo sarà l'ambiente jdk 11 che potete scaricare al link che vedete qui e come versione dell'ambiente di sviluppo eclipse utilizzeremo quella che si chiama 2020 trattino 12 che è stata rilasciata un paio di mesi fa ora voi potreste anche utilizzare altre versioni il punto è che durante gli esercizi durante il laboratorio e anche durante l'esame questi sono i software di riferimento tendenzialmente se qualcosa funziona su una versione 11 funziona anche sui versioni successive però ci possono essere piccole differenze che vi portano a scrivere un programma che magari voi credete che funzioni e poi in realtà non funziona correttamente quindi la mia raccomandazione è utilizzate esattamente queste versioni all'interno di eclipse sarà poi necessario utilizzare un plugin che si chiama subclips che serve per collegare eclipse al repository subversion in cui ci saranno gli esercizi e su cui andrete a salvare gli esercizi ci sono un paio di altri tool che potrebbero essere utili soprattutto per gestire uml uno si chiama asta uml che ha una versione free per studenti link lì e che può essere utile per andare a disegnare diagrammi uml qui sono indicati come utili perché sostanzialmente per quanto riguarda uml non ci saranno parti da svolgere durante l'esame e quindi è un qualcosa in più che voi potete fare ma non è strettamente necessario per l'esame mentre invece gli altri due sono essenziali l'esame finale come funziona ci sono due parti una parte di programmazione allora domanda sì questionario di autovalutazione non è ancora abilitato ok c'è stato qualche problema nelle abilitazioni quindi il questionario di autovalutazione non c'è ancora infatti ho saltato la slide in cui vi invitavo a farlo per cui se hai ricevuto un errore e tra virgolette normale verrà abilitato e vi invierò un messaggio appena sarà pronto per per essere riempito l'esame due parti la prima parte riguarda la parte di programmazione quindi durante l'esame si tratta di scrivere il codice in base ai requisiti che vi verranno forniti e poi ci sarà una seconda fase dopo l'esame con un tempo un po più lungo quindi qualche giorno tra i cinque giorni per andare a correggere l'esame e poi ci sarà una seconda parte che riguarda la teoria in cui ci saranno delle domande a risposta chiuse indicativamente il tutto dura due ore come funziona la parte di programmazione durante l'esame prima della pandemia era in laboratorio dovrete sviluppare un'applicazione java utilizzando un ide che è eclipse quindi sì durante l'esame dovrete utilizzare un ide quello che vi diamo è una descrizione dei requisiti quindi che cosa deve fare il programma e lo scheletro del programma con le principali funzioni che dovrete andare a implementare e quindi nel tempo dell'esame dovrete andare a sottomettere quella che la versione iniziale negli anni passati abbiamo utilizzato il sistema Respondus e Vlive non so se qualcuno di voi ha utilizzato Vlive in esami precedenti la nostra esperienza è stata ok Vlive è sostanzialmente un desktop remoto che funziona tramite browser quindi voi avete il browser all'interno di Respondus, Respondus temo l'abbiate utilizzato e si collega a una macchina virtuale che è fatta funzionare all'interno del Politecnico il problema che sommando il lockdown browser di Respondus l'interazione via web e le macchine virtuale ok quindi mi state ok in algebra con MATLAB ecco se lo fate durante un'esercitazione e non funziona dite pazienza cerchiamo una soluzione alternativa se capita durante l'esame è alquanto spiacevole soprattutto per voi ma è ovviamente una causa di stress anche per noi perché siamo sempre lì in attesa che succeda qualcosa quindi l'esame Vlive lo scorso anno quindi probabilmente qualcuno può anche andar bene però in generale c'è una percentuale non trascurabile di persone a cui non funziona funziona come una estrema lentezza per cui quest'anno non utilizzeremo il Vlive ok l'idea è di farvi sviluppare il programma sui vostri pc utilizzando Eclipse e tutto il resto sul vostro pc quindi a maggior ragione dovete installare i software che vi ho detto prima perché altrimenti oltre a non fare i laboratori non riuscite neanche a fare l'esame l'idea di base è allora i dettagli tecnici di come verrà fatto e che tipo di sorveglianza verrà fatta sono ancora in divenire ok quindi non vi posso dare ulteriori dettagli però indicativamente voi svolgerete la parte di programmazione sui vostri pc questo dovrebbe eliminare praticamente tutti i problemi che più gravi che abbiamo visto l'anno scorso è ovvio che se passa al cane e stacca la presa del vostro pc è un problema ok però è un eventualità più improbabile diciamo così quindi questo nell'ottica di semplificarvi la vita togliere tutte le fonti o la maggior parte delle fonti di stress dell'esame permettervi di svolgere un esame di programmazione in tutta tranquillità è ovvio che togliendo diciamo vlive con un controllo stretto su quello che fate è più probabile che ci siano dei comportamenti scorretti sicuramente da una minoranza o da nessuno di voi ma in teoria in estratto è possibile ovviamente noi faremo tutti i controlli necessari per cui se c'è il sospetto che qualcuno non abbia svolto l'esame in modalità del tutto autonoma quindi senza nessun aiuto esterno l'esame verrà annullato e ci sarà una denuncia alla commissione disciplinare che può ovviamente può portare a sospensione che vuol dire che non potete dare esami non per quell'appello ma per sei mesi un anno ok quindi è un rapporto di fiducia noi ci fidiamo cerchiamo di mettervi nelle condizioni di svolgere l'esame nel modo migliore e più agevole possibile ovviamente deve esserci un comportamento corretto da parte vostra e quindi massima fiducia fino alla prima prova contraria ma guai alla prima prova contraria cosa succede dopo che è finito l'esame voi sottomettete il vostro elaborato lo farete tramite subversion poi vedremo nel dettaglio come noi eseguiremo dei test automatici sul vostro programma quindi l'ultima versione che avete consegnato durante l'esame verrà soggetta a dei test automatici e quindi vi invieremo i test per poterlo correggere se siete fortunati se siete bravi o una combinazione delle due i test passano senza nessun problema e quindi non dovete fare praticamente nulla se invece avete fatto qualche piccolo errore avrete o anche grande avete la possibilità di andare a correggere l'esame ok quindi scrivete il codice quello che manca correggete quello che avete fatto prima e sottomettete la versione corretta il voto verrà poi dato sulla base di allora no scusate ho cominciato ci fosse il dettaglio della valutazione il voto verrà dato su due parametri il primo parametro è quanto bene è andato il vostro programma rispetto ai test che abbiamo eseguito durante l'esame avete scritto un programma che funziona al 50 90 100 per cento e quanto la versione finale si discosta la versione finale che supera tutti i test si discosta da quella iniziale ok come vi dicevo prima dato un programma dato un problema le soluzioni di termini di codice possono essere tantissime quindi noi cosa andremo a fare andremo a fare una differenza tra quello che è la versione finale e la versione che avete consegnato alla fine dell'esame e più modifica avete fatto se per ipotesi con una singola modifica il vostro programma passa da superare il 5 per cento di testa a superarli tutti ecco ovviamente il vostro voto sarà relativamente alto domanda nel caso di teoria le risposte comportano una penalizzazione potete ovviamente non rispondere tendenzialmente la risposta sbagliata vale zero per quanto riguarda programmazione quello che noi andiamo a verificare è che siate in grado di capire i requisiti di andare a sviluppare progettare una una parte di programmazione scrivere il codice in maniera corretta usare gli strumenti di sviluppo e capire come funzionano i test interpretare i loro risultati e quindi essere in grado di correggere il programma di conseguenza domanda c'è un punteggio minimo per la parte di teoria da fare no nel senso che l'85 per cento del punteggio tornate indietro l'85 per cento del punteggio è dato dalla parte di programmazione quindi se voi non fate teoria sostanzialmente partite da un voto più basso tenete conto che buona parte della teoria che faremo in questo corso riguarda java e gli strumenti di sviluppo quindi bene o male in larga parte li utilizzate per svolgere l'esame ci sono un po di altri argomenti che non sono praticamente applicabili direttamente quelli saranno soggetti alle domande quindi la teoria è quello che vi permette di aumentare un po il vostro punteggio ma non vi preclude il superamento dell'esame la valutazione dicevo prima riguarda la correttezza funzionale quindi la percentuale di test che il vostro programma quello che avete consegnato alla fine dell'esame supera e quanto è necessario modificare quel programma per che funzioni correttamente quindi il numero di cambiamenti sicuramente molti di voi hanno già utilizzato programmi tipo diff ecco il concettualmente noi faremo un diff tra la versione che avete consegnato all'esame e la versione finale che supera tutti i test quello che può venire in mente a qualcuno di voi in questo momento è idea geniale scrivo il programma su una sola riga e quindi il diff vuol dire che ho cambiato semplicemente una riga sola ecco non per scoraggiarvi ma non funziona ok qualcuno ci ha provato nel passato ma insomma non è il modo di cui viene valutato banalmente il programma attenzione si presuppone che voi siate in grado nei tre cinque giorni che avete dalla fine dell'esame di far funzionare correttamente il vostro programma quindi correggerlo completamente in questo caso non ci sono vincoli non c'è nessun controllo quindi potete utilizzare qualunque risorsa se alla fine dei cinque giorni non siete riusciti a far funzionare il vostro programma l'esame è fallito e quindi essere in grado di far funzionare il programma in cinque giorni non avendo nessun controllo nessun vincolo è la soglia minima della decenza e se non ci arrivate l'esame ovviamente non lo passate domanda se si andrà a contare il numero di righe che differiscono nell'originale significa che un errore di battitura avrà lo stesso peso di un errore concettuale sì e no allora la risposta breve è sì la risposta lunga è un errore concettuale di solito non riesci a risolverlo con una semplice modifica quello che noi valutiamo è la funzionalità del programma ok non le sue caratteristiche per cui se invece di fare un ciclo da da 0 a 9 per riempire un array scrivete array di 0 uguale a 1 array di 1 uguale a 2 eccetera eccetera perché non sapete utilizzare ciclo for e il vostro programma funziona avete superato l'esame tenete presente che normalmente c'è una correlazione tra saper utilizzare dei costrutti compatti e avanzati e il tempo che ci impiegate a risolvere un problema quindi se esiste un modo semplice ed elegante di risolvere un problema con due righe di codice e voi ce ne impiegate 10 o 20 sostanzialmente avete uno impiegato molto più tempo l'esame dura due ore e quindi più tempo impiegata a risolvere ogni singolo dettaglio meno è probabile che riusciate a finire il compito a proposito non è detto che riusciate a finire il compito il numero di requisiti che noi diamo è tale da garantire che anche chi è molto bravo tendenzialmente non è che finisca mezz'ora prima ovviamente in fase di valutazione del compito terremo conto del fatto che nessuno è riuscito a fare più dell'80% dei requisiti e quindi chi ha fatto l'80% ovviamente prenderà il massimo seconda considerazione oltre al tempo che voi impiegate c'è una legge molto semplice nel software che dice che il numero di errori è direttamente proporzionale al numero di righe di codice quindi se voi scrivete il codice con i piedi impiegandoci molto di più quindi mettendo molte prestazioni di quelle strettamente necessarie implicitamente avete anche aumentato la probabilità di commettere errori quindi la correttezza legata anche ai limiti di tempo è una valutazione implicita anche del fatto che voi abbiate scritto il codice in maniera corretta però in pratica un errore di battitura equivale in termini di voti a un errore concettuale ammesso che richiedono lo stesso tipo di correzione domanda la parte di teoria e quella di programmazione saranno separate o sono insieme? no, sono sostanzialmente insieme quindi ci sarà la parte di programmazione e quella di teoria immediatamente contigue normalmente nella parte di teoria diciamo nelle domande metteremo anche qualche domanda relativa al programma in sé ok, di verifica la parte di programmazione allora in passato erano fatte, erano tutte e due contemporanee durante le due ore dell'esame quindi ognuno decideva quanto tempo allocare a una o all'altra in questo momento stiamo valutando diverse alternative l'obiettivo è trovare una soluzione che sia fattibile robusta nel senso che non vi porti dei problemi per problemi tecnici per cause tecniche che non dipendono da voi o dalla vostra volontà e ovviamente garantiscano che ci sia un minimo di controllo sul fatto che il compito viene svolto in autonomia però tendenzialmente sono fatte contemporaneamente lo stesso giorno ripeto si tratta di due o tre domande di teoria ok quindi non è una parte molto molto significativa nei lucidi che seguono ci sono un po' di riferimenti vari letture su java su ingegneria del software in generale sul test sul configuration management ok non mi soffermo particolarmente su di questi sono letture consigliate tendenzialmente è sufficiente il materiale che vi forniamo noi e soprattutto la pratica direi che con questo ho concluso la panoramica diciamo sull'organizzazione del corso domande oltre a quelle ovviamente che mi avete fatto finora no io non so esattamente quanto ritardo ci sia tra quello che dico e quello che il momento in cui voi lo sentite vi aspetto ancora un minuto giusto per essere sicuro di non perdermi delle domande domanda allora la parte di laboratorio verrà valutata la parte di laboratorio non verrà valutata e quindi è una parte da svolgere per per imparare a sviluppare il codice java ovviamente essendo strutturata esattamente come l'esame ed essendo incrementale seguendo gli argomenti che vengono svolti durante il corso direi che è essenziale nel senso che se non siete in grado di svolgere il laboratorio sicuramente non sarete in grado di svolgere l'esame quello che invece verrà fatto è che la parte di laboratorio verrà corretta torno un attimo indietro su la struttura e l'organizzazione dell'esame nell'esame vedete che c'è una prima parte di sottomissione della versione iniziale e poi a casa ricevete i test e l'esito ecco questo meccanismo verrà replicato esattamente identico anche per i laboratori quindi i laboratori li dovrete sottomettere di nuovo potreste anche non sottometterli è una vostra scelta non vi dà nessuna vantaggio o svantaggio il vantaggio di sottomettere i laboratori una volta fatti è che verranno eseguiti automaticamente dei test e voi riceverete via mail l'esito dei test e un link ai test stessi mettendovi sostanzialmente nelle condizioni dell'esame e quindi una volta ricevuti i test potrete andare a correggere l'esame l'esercizio del laboratorio esattamente come fatte per l'esame domanda libri consigliati come vi accennavo prima sono letture consigliate e quindi non è strettamente necessario andare a acquistare alcuni allora alcuni sono ovviamente online ma non è necessario andare ad acquistare nulla ovviamente scusatemi un elemento di documentazione fondamentale è il primo che vedete qui la documentazione java online che è un qualcosa che utilizzerete costantemente durante le vostre attività di programmazione per il resto gli altri libri non sono strettamente necessari tra l'altro alcuni di questi sono disponibili online ok gratuitamente ho cominciato a seguire le video lezioni sul portale ci sono differenze rispetto al corso di quest'anno allora ripeto il programma è sostanzialmente lo stesso una differenza importante è questa l'anno scorso utilizzavamo JDK 8 ed Eclipse Oxygen che è una versione vecchia quest'anno utilizziamo JDK 11 ed Eclipse 2020-12 questo è il software di riferimento ok per quanto riguarda il linguaggio la sintassi eccetera non cambia nulla quindi c'è una variazione in termini pratici cambiano un po' gli strumenti e quindi gli strumenti che voi dovreste utilizzare durante sia i laboratori ma soprattutto durante l'esame per quanto riguarda i contenuti è possibile che ci siano piccole variazioni nelle lezioni negli esempi eccetera però il contenuto e i programmi sono sostanzialmente gli stessi domanda ci sarà un test preesame per partecipare a quest'ultimo? direi di no il test preesame era un qualcosa che avevamo introdotto quando c'erano gli esami al live il problema era sostanzialmente che c'era una percentuale che variava dal 5 al 10 a volte anche il 15% di studenti che si prenotavano per l'esame poi non erano presenti questo ci obbligava ovviamente non potendo fare overbooking a suddividere l'esame in due o tre turni perché i laboratori fisici hanno un numero di posti limitato quindi per essere sicuri che qualcuno si prenotato si presentasse per l'esame avevamo messo la domanda preesame in questo caso non prevedo che faremo esami in presenza e quindi ragionevolmente non ci sarà se a giugno saremo tutti vaccinati e la pandemia sarà finita e si tornerà in presenza allora probabilmente sì verrà fatta una domanda ma mi sembra una possibilità alquanto remota le dispense saranno tutte in inglese sì e tutto il materiale è in inglese anche perché questo materiale è utilizzato in due dei corsi in italiano oltre che nel corso in inglese alcuni termini sono insomma difficilmente traducibili in italiano quindi il materiale è tutto in inglese ok non vedo altre domande e quindi a questo punto farei una pausa approfittate della pausa per andare a prendere il software ok se vi scaricate il JDK ed Eclipse eventualmente se avete problemi proviamo a risolverli assieme successivamente approfittate neanche per iscrivervi a eccoci qua al canale Slack ok vi metto il link anche nella chat qui così è più comodo ok ok allora Slack oltre ad essere utilizzato per per le interazioni per le domande in caso di problemi tecnici io vi metto lì link alternativi o eventualmente voi potete avvisare me del fatto che ci sono problemi di di connessione quindi posso ritardare posso possiamo cercare una soluzione assieme ok domanda quando clicco su java.exe non succede nulla non succede nulla perché java.exe ha bisogno di di qualcosa da eseguire quindi non fa nulla e se volete è un ambiente di esecuzione dopo la pausa facciamo una piccola panoramica su come funziona java così iniziamo iniziate a capire io faccio le 9.45 prendiamoci 10 minuti di tempo alzatevi fate due passi per casa saltellate e ci ritroviamo qui alle 9.55 e cerchiamo poi anche di di vedere come funziona java e se poi avete problemi pratici di installazione almeno quelli principali proviamo proviamo a vederli assieme ok pausa e ci rivediamo tra poco allora a questo punto che cos'è l'ambiente java su cui lavoreremo non è un semplicemente java non è semplicemente un linguaggio ma prevede tutto un un ambiente domanda il reposito lo scorso anno il reposito lo scorso anno sarà sostanzialmente cancellato perché vengono cancellati di anno in anno però l'indirizzo sarà ovviamente lo stesso essendo la matricola uguale allora che cos'è java iniziamo da quella che è un minimo di storia giusto per capire da dove arriva partiamo dal 91 la sun microsystem un'azienda allora leader nell'informatica mondiale che oggi non esiste più lancia un programma per sviluppare un linguaggio di programmazione che permettesse di andare a programmare quelli che sono i i set top boxes quelli che oggi noi chiamiamo i decoder negli Stati Uniti non c'era ovviamente la rete internet diffusa ma c'erano un sacco di tv via cavo tv via cavo ovviamente trasmettevano e avevano bisogno di decoder e l'idea era quella di andare ad arricchire l'esperienza dell'utente sulle tv via cavo andando a mettere delle applicazioni su questi set top boxes quindi quella era la nicchia di marketing iniziale per java l'obiettivo del linguaggio era quello di andare a fare qualcosa che fosse semplice orientato agli oggetti perché diciamo che in quel momento quasi tutti i linguaggi nuovi erano orientati agli oggetti e indipendenti dalla piattaforma perché come succede per i decoder veri che conosciamo oggi ci sono tantissimi produttori che si conformano alle specifiche di chi trasmette ma utilizzano dell'hardware diverso e quindi l'idea era di poter sviluppare un'applicazione che funzionasse su diverse varianti di decoder cosa è successo dopo il linguaggio è stato reso pubblico è iniziato a prendere piede e qualche anno dopo nel 94 è stato sviluppato un browser scritto totalmente in java che si chiamava hot java e da qui è nata anche l'idea di andare a mettere quelli che si chiamano gli applet ovvero dei piccoli frammenti di programma che potessero funzionare all'interno di una pagina web per rendere dinamica l'interazione quello che fino a qualche anno fa si faceva con flash e che ora si fa sostanzialmente con javascript però all'epoca flash non esisteva ancora e javascript era ancora agli inizi quindi non era molto diffuso il linguaggio si è evoluto e c'è stata la prima versione quindi diciamo un po' più completa nel 96 che era la versione 1.0 di java nel 96 cosa è successo che in escape produttore del browser più diffuso a parte internet explorer all'epoca decide di supportare java ovvero decide di permettere di eseguire gli applet quindi piccoli programmi scritti in java che funzionano all'interno di una pagina web e quindi danno un'interattività molto superiore a quella dell'html normale e quindi java inizia a diventare molto popolare e nel 97 viene lasciata la versione 1.1 che inizia ad aggiungere un sacco di nuove funzionalità e nel 98 la versione 2 che ha come grossa differenza il fatto che sono state aggiunte molte librerie che permettono di fare tante attività uno dei limiti se volete del C a parte che la sintassi è molto complicata ed è di basso livello è che le librerie standard sono abbastanza limitate quelle descritte nel linguaggio nel libro Kernighan e Richie sono poche e permettono di fare cose molto di basso livello se volete fare cose più complicate dovete andare a utilizzare librerie e queste non sono standard quindi imparate una libreria in un lavoro o all'università però quella libreria lì poi nell'azienda successiva in cui andate a lavorare non viene utilizzata perché ne viene utilizzata un'altra con Java invece il vantaggio è che le librerie per fare tante cose dall'interfaccia grafica all'interazione in rete allo sviluppo di applicazioni web sono sostanzialmente standard quindi quelle sono una volta che le avete imparate le applicate in qualunque azienda in qualunque contesto quindi Java 2 attenzione Java 2 in questo caso si riferisce alla piattaforma e 1.2 è la versione del linguaggio quindi abbiamo questa dualità il linguaggio Java e la piattaforma di supporto che ovviamente evolvono contemporaneamente nel 2000 è uscito la versione Java 1.3 con un po' di migliorie nella piattaforma molto più molto più performante in particolare è stato introdotto un nuovo tipo di Virtual Machine che si chiama Hotspot c'è stato la versione 1.4 nel 2002 qui hanno iniziato ad utilizzare la notazione Java 2 Standard Edition abbiamo una piattaforma di livello 2 adesso 1.4 del linguaggio i cui sono state aggiunte molte nuove librerie soprattutto legate all'interazione web nel 2005 è uscito Java 5 e nel 2005 finalmente hanno ripreso a aggiungere nuove caratteristiche al linguaggio quindi è cambiata proprio la sintassi del linguaggio non semplicemente nuove librerie nel 2010 è successo che Sun Microsystem è stata acquisita da Oracle Oracle l'azienda che esiste ancora oggi e un anno dopo è uscito Java 7 con alcune migliorie in termini di prestazioni dell'input output a questo punto diciamo diciamo già del 2002 in avanti Java è stato iniziato si è iniziato ad utilizzare Java per qualunque tipo di software quindi dai client ai server e quindi soprattutto sul lato server lo sviluppo che utilizza Java si è diffuso tantissimo quindi l'input output è un elemento critico quando ho a che fare con un'applicazione server perché devo poter leggere e scrivere dati molto velocemente in modo da poter rispondere velocemente ai miei client nel 2014 quindi stiamo parlando di tre anni dopo è uscito Java 8 che prevede molte novità molte novità in termini di linguaggio in particolare quelle che sono le due più importanti probabilmente sono le lambda expression e quello che è un nuovo paradigma di programmazione che è detto paradigma funzionale per il momento vi sto dicendo un sacco di cose qui magari ricorderete qualcosa man mano che andremo avanti col corso e quindi vedremo la sintassi Java torneremo su tutte queste caratteristiche la versione del linguaggio Java 8 è quella a cui noi facciamo riferimento in questo corso quindi la versione del linguaggio è la versione 8 l'ambiente di supporto che invece utilizzeremo come vi dicevo prima è la versione 11 che è quella in questo momento abbastanza diffusa se andiamo a vedere le statistiche probabilmente il JDK 8 è forse ancora quello più utilizzato in generale nell'industria diciamo che tra quelli nuovi il JDK 11 forse è quello un po' più diffuso nel 17 è cambiato tantissimo in termini di Java quindi la licenza con cui Oracle rilascia il software è cambiata e hanno iniziato una pianificazione di rilasci di nuove versioni di Java fatte ogni sei mesi quindi Java 9 è stato il primo di la versione rilasciata con questa cadenza semestrale ovviamente alcune versioni sono categorizzate come LTS Long Term Support ovvero sono versioni che Oracle l'organizzazione che sta dietro Java garantisce che verranno supportate per un periodo lungo mi pare sia quattro anni quindi l'idea è che noi utilizziamo Java 11 perché è un JDK LTS quindi le caratteristiche di questo di questo ambiente sono supportate sono supportate per un periodo lungo e soprattutto sono garantiti tutte le attività di bug fixing su quel JDK quindi è ovvio che tendenzialmente se devo andare a sviluppare del software che verrà utilizzato in produzione quindi utilizzato direttamente dai miei clienti la scelta dovrebbe cadere su quelle che sono delle versioni di Java LTS perché sono versioni che sono sicuro resteranno stabili e supportate per cui ad esempio tutti i fix di sicurezza verranno riportati su queste versioni per cui fino all'anno scorso noi utilizzavamo il JDK quindi la piattaforma di supporto 8 da quest'anno utilizziamo la 11 anche perché è un pochettino più moderna un po' più diffusa le caratteristiche del linguaggio introdotte dopo la 8 però non fanno parte di questo corso ok noi vediamo un sotto insieme del linguaggio che è ancora quello di Java 8 magari farò qualche cenno qui e là durante il corso alle nuove caratteristiche ma non sono quelle di cui parleremo e quelle oggetto dell'esame l'anno scorso sono uscite Java 12 e 13 e adesso c'è Java 14 versione del linguaggio di riferimento Java 8 versione dell'ambiente di sviluppo di riferimento Java 11 JDK 11 quali sono le caratteristiche principali di Java allora Java è un linguaggio che abbiamo detto prima è stato pensato per essere un linguaggio orientato agli oggetti questo vuol dire che fornisce in termini di sintassi gli elementi gli strumenti per andare a definire le classi definire la gerarchia delle classi creare distruggere gli oggetti invocare i metodi di un oggetto eccetera Java è stato pensato per essere puramente ad oggetti e quindi non ha costrutti procedurali ovvero ovvero se pensate a un linguaggio come C in C io ho come costrutto fondamentale con cui vado ad assemblare i miei programmi la funzione c'è la funzione main che è quella da cui parto ma poi ho tante funzioni questi sono gli elementi che posso mettere aggiungere uno per volta ecco in Java io non posso le cose sono poi cambiate leggermente dopo ma diciamo che in linea di principio non posso andare a definire una funzione a se stante ok non esiste la possibilità di definire una funzione posso definire delle classi e all'interno delle classi definire dei metodi che sono la cosa più simile a una funzione che troviamo in Java quindi il costrutto di primo livello che posso andare a definire in Java è la classe mentre invece in C il costrutto di primo livello che posso andare a definire sono le funzioni e anche le variabili ok in Java l'unica cosa che posso definire come livello principale sono le classi e all'interno delle classi posso definire metodi che sono parenti delle funzioni e attributi che sono parenti delle variabili quindi hanno fatto una scelta di progettazione del linguaggio abbastanza netta decidendo di non utilizzare questi costrutti di base tuttavia hanno scelto di fare una sintassi del linguaggio molto simile agli altri linguaggi precedenti C o C++ per cui i costrutti di controllo sono esattamente identici C++ tranne 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 qualche piccola variabile variante per probabilmente adattarsi alle caratteristiche del linguaggio a quello che abbiamo in C quindi i costrutti condizionali di IF i costrutti di loop sono esattamente identici e quindi sostanzialmente io non sto a soffermarmi cioè immagino che voi sappiate già utilizzare benissimo tutti i cicli i costrutti strutturati che esistono in C e sappiate trasportarli perché la sintassi è esattamente lo stesso in Java ovviamente mi soffermerò sulle piccole differenze che ci sono nel loro utilizzo ma il costrutto in sé è esattamente lo stesso una delle caratteristiche fondamentali definite per l'appunto in fase di definizione del linguaggio è quello di andare a costruire un qualcosa che fosse indipendente della piattaforma e quindi permettesse di sviluppare l'applicazione una volta e di utilizzarla e di eseguirla tranquillamente su tante piattaforme diverse e come avviene questo avviene andando a compilare il codice in un linguaggio intermedio che si chiama bytecode e poi andando a interpretare questo bytecode tramite una virtual machine una macchina virtuale quindi in pratica il linguaggio Java è un linguaggio interpretato indirettamente interpretato per cui ho una fase di compilazione e poi una fase interpretazione quindi com'è che raggiungo questa dipendenza della piattaforma la raggiungo perché ovunque io abbia qualunque piattaforma io abbia a disposizione una Java virtual machine posso eseguire i programmi Java quindi mi basta questo modulo questo modulo jvm Java virtual machine per poter andare a eseguire programmi java per cui ovviamente quando voi andate a scaricare il JDK quello che fate è scaricate una virtual machine più un po' di ambiente che sta attorno adesso ci arriviamo per una particolare piattaforma quindi potete scaricare la vostra virtual machine per Windows per Mac per Linux nelle varie varianti Ubuntu o altro e una volta che avete quello installato potete tranquillamente eseguire i programmi Java il fatto che ci sia una virtual machine consente anche un un buon livello di dinamicità nel senso che la virtual machine è in grado di leggere al volo il codice e quindi posso caricare dinamicamente del codice man mano che mi serve domanda questa virtual machine potrebbe avere problemi con Respondus tendenzialmente no nel senso che sono sono cose indipendenti quindi Respondus non dovrebbe cioè se voi avete la virtual machine installata e fate un esame con Respondus non dovrebbero esserci interazioni poi ripeto per quanto riguarda l'esame non sono in grado ora di dirvi esattamente in termini di aspetti tecnici di dettaglio come verrà svolto perché stiamo cercando una soluzione che eviti qualunque problema di di connessione o altro quindi appena avremo gli aspetti tecnologici definiti e testati ecco ve lo diciamo ovviamente col dovuto anticipo sappiate che l'idea è che voi possiate sviluppare il programma sul vostro pc con Eclipse che avete installato ora o installerete tra poco e quindi non avrete problemi legati ad altro è un linguaggio che è stato progettato per essere robusto quindi è un linguaggio fortemente tipizzato e non ha i puntatori espliciti in C diciamo che metà dei problemi che uno di solito incontra è perché ha utilizzato male i puntatori in Java i puntatori non sono espliciti sono assolutamente controllati dal linguaggio e quindi tutta questa categoria di problemi sostanzialmente non si ripresenta è un linguaggio fortemente tipizzato quindi ho le variabili che hanno i tipi ben definiti e quindi il compilatore è in grado di verificare che stia assegnando il valore corretto al linguaggio scusate a una variabile del linguaggio ci sono una serie di controlli a runtime per cui ad esempio quando cerco di accedere a un elemento di un array la virtual machine perché ricordatevi che c'è sempre la virtual machine di mezzo verifica che l'elemento a cui sto cercando di accedere esista quindi non mi permette di accedere fuori dai limiti dell'array c'è il garbage collection quindi potete allocare la memoria allocate indirettamente ma non dovete preoccuparvi di deallocarla quindi mentre in C dovete per ogni malloc deve esistere una free corrispondente altrimenti la vostra memoria utilizzata esplode in Java le free vengono fatte in automatico dalla virtual machine e poi c'è utilizza le eccezioni come meccanismo per la gestione degli errori ma sono tutti aspetti che vedremo man mano che analizziamo il linguaggio in termini di sintassi vi dicevo prima la sintassi è molto simile a quella che abbiamo in C o in C++ e quindi conoscendo C e C++ non dovreste avere problemi a passare a Java quindi le istruzioni base le conoscete già ed è tendenzialmente facile da utilizzare soprattutto Java particolarmente nelle versioni non quelle iniziali ma diciamo dalla 1.2 in avanti supporta quello che si chiama programmi in del large ovvero lo sviluppo di programmi di grandi dimensioni quindi ha un meccanismo per andare a identificare dei componenti che in Java si chiamano package non so quanto sia grande il programma più grande che avete scritto in C però se pensate di dover scrivere programmi molto grandi migliaia decine di migliaia di righe di codice in C che cosa fate andate a spezzare il vostro codice su più file e andate a raggruppare i file in più cartelle il punto è che il linguaggio e il compilatore dei file e delle cartelle non sanno nulla prendono un'unità la compilano e basta il fatto che abbiate raggruppato in una cartella tutte le funzioni che servono per l'input output è una vostra scelta in termini di linguaggio di compilatore non vuol dire nulla in Java invece esistono i package che permettono di andare a identificare diversi componenti in cui andiamo a mettere classi che sono consistenti tra di loro e che permette di andare a strutturare meglio il vostro programma un altro aspetto molto utile per programmare per sviluppare grandi programmi grandi applicazioni è Javadoc che è un l'applicazione che permette di andare a generare automaticamente la documentazione del codice questo Javadoc genera sostanzialmente una serie di file HTML con tutta la documentazione online e quindi permette a chi deve utilizzare delle librerie o classi che esistono di sfruttare questa documentazione e di conoscere bene quello che c'è senza dover andare in qualche modo ad hoc a documentare il codice come vi accennavo esiste un insieme molto ampio di librerie standard per gestire programmazione concorrente per la grafica per la programmazione di rete eccetera quali sono le caratteristiche fondamentali di Java beh allora abbiamo detto che c'è un unico concetto di base che è quello di classe quella che vedete scritta qua è la classe più semplice che possiamo andare a definire ovvero una classe vuota però questo è una dichiarazione valida in Java ok in Java definiamo una classe che si chiama first senza nessun contenuto in Java esiste anche una convenzione forte sui nomi per cui la classe first deve trovarsi all'interno di un file che si chiama first.java quindi una classe per ogni file e il nome della classe e il nome del file devono coincidere se voi utilizzerete Eclipse questa convenzione viene garantita in maniera automatica nel senso che in Eclipse voi non create un file ma create una classe e automaticamente Eclipse vi crea il file che ha lo stesso nome un altro aspetto importante è che la corrispondenza tra nome della classe e nome del file deve rispettare maiuscole e minuscole quindi se scrivo first con la maiuscola il nome del file dovrà essere identico quindi con la F maiuscola qual è il punto di partenza dell'esecuzione in C abbiamo una funzione che si chiama main che è quella da cui parte l'esecuzione di tutto in Java non ci sono funzioni vi dicevo ma soltanto classi però all'interno delle classi io posso andare a definire dei metodi per cui l'esecuzione normalmente parte da un metodo che si chiama main che sta dentro una classe il metodo main è dichiarato in questo modo un paio di differenze rispetto alla funzione main che troviamo in C è che non ha un tipo di ritorno quindi void mentre in C il main restituisce un valore intero e ha questo array di string che string è già una caratteristica di Java ci arriveremo poi quando iniziamo a parlare delle caratteristiche di base di Java quindi è un array di string che contiene nei parametri la differenza è che in in C nell'array argv il primo elemento è il nome stesso del programma mentre invece in Java args è di zero è non il nome del programma ma il primo parametro effettivo quindi piccole differenze se dovete utilizzare le linee di comando che vi portano a domanda l'attributo static ha lo stesso significato che ha in C no static in Java ha un significato un po' diverso ci arriviamo quando poi vediamo la sintassi per il momento fate un atto di fede ricordatevi che il metodo main si chiama public state void main e poi man mano direi tra questa settimana e inizio della prossima capirete perché perché è dichiarato così se avessero stesso significato in C in realtà non avrebbe molto senso ok a questo punto proviamo a scrivere il nostro primo programma Java allora vi apro una finestra allora ho il terminale perfetto ho un terminale vado ho creato una cartella di esempio vado qui dentro e creo vado da aumentare un po' il carattere così ok vi abbiamo detto first punto java qui dentro vado a mettere public class scusate si è avete ragione perché ok è andato in pausa lo schermo ok adesso lo vedete è perfetto scusatemi ma non so come mai mi si è andato in pausa lo schermo la condivisione scusate allora dicevo public classe abbiamo detto first ho visto che il corso in italiano prima classe aperta chiusa e salvo a questo punto se avete installato JDK e tutto funziona con il comando java c prima scusate l'ho chiamato first ma devo chiamarlo prima perché il nome della classe e il nome del file devono essere lo stesso con il comando dicevo java c prima punto java compilate il vostro codice java quindi compilatore nome del compilatore e il nome del file da compilare non ha fatto nulla ma se andiamo a vedere all'interno della cartella ha creato questo file che si chiama prima punto class domanda se consiglio l'utilizzo di linux per programmare in java no non è allora questa cosa che sto facendo con terminale la potete fare tranquillamente con il terminale che avete su windows ok quindi tra l'altro questa questa cosa non non richiede particolari particolari caratteristiche perché è un un esempio di come possiamo fare la programmazione poi diciamo che dal momento in cui inizieremo a programmare voi saprete già utilizzare Eclipse e quindi utilizzerete Eclipse quindi non è necessario utilizzare linux o altre cose utilizzate quello che è più comodo per voi quindi prima punto class che cos'è è il risultato della compilazione ed è quello che contiene il bytecode ok vi dicevo prima che viene generato un codice intermedio che è un bytecode prima punto class io non lo posso eseguire direttamente mentre se avessi un programma c genero un eseguibile e quell'eseguibile lo posso lanciare direttamente prima punto class non può essere eseguito direttamente ma può essere eseguito soltanto attraverso quella che è la java virtual machine la java virtual machine però ha bisogno che ci sia per l'appunto il famoso metodo main altrimenti non sarà dove iniziare esattamente come un programma c se non mettete il main l'esecuzione non non viene lanciata perché non c'è un punto di partenza quindi quello che tecnicamente si chiama un entry point cioè il punto di inizio del programma deve essere fornito quindi vado a riaprire il nostro prima punto java non provo neanche a lanciarlo perché mi darebbe un errore e faccio public static void main string hugs aperta e chiusa ok il programma è vuoto aggiungo una stampa ok così almeno quando lo eseguiamo vediamo che fa qualcosa allora system out println di nuovo prendetelo come un atto di fede d'altronde quando avete visto il primo hello world con printf di nuovo era un atto di fede anche qui ci arriveremo man mano quindi vedete che termino col punto e virgola c'è una chiamata le stringhe si mettono con gli apici eccetera eccetera ok quindi chiudo ricompilo ok ho compilato ho ottenuto la versione questa volta con il metodo main a questo punto chiamo la virtual machine la java virtual machine viene invocata con il comando java quindi java c il compilatore java java invece chiama la virtual machine quindi se io faccio java e poi dico prima il nome della classe ok la virtual machine che cosa fa conosce le classi non conosce i file quindi se gli dico esegui a partire dalla classe prima lui cosa fa prende il bytecode della classe prima che sarà in un file che si chiama prima punto class lo carica va a cercare il metodo main e inizia a eseguirlo quindi a questo punto java prima ti stampa ciao mondo mentre in c se io mi ritrovo due file che entrambi definiscono la funzione main il compilatore mi dà un errore di duplicazione di simboli in java è possibile avere tante classi ciascuna con un metodo main al loro interno come fa la java virtual machine a sapere da quale metodo partire beh lo vediamo qua io ho scritto java e poi il nome della classe quindi la java virtual machine va a prendere il metodo main che si trova dentro la classe che io ho passato come parametro quindi quando io lancio un'esecuzione la lancio a partire da una classe quella classe dovrà contenere un metodo main altrimenti mi viene detto non c'è un metodo main da cui partire e quindi quello è l'entry point allora domanda in java una classe pubblica o privata deve essere definita quando definiamo una classe oppure possiamo definirla all'interno non sono sicuro di aver capito la domanda allora riapro un attimo il codice ecco qua normalmente in java la classe prima si definisce dentro la classe dentro il file che si chiama prima.giano la regola generale è ogni classe sta in un file separato il public che è quello che noi mettiamo di solito ci dice che questa classe è visibile se noi mettessimo la classe qui come privata la classe non sarebbe visibile quindi non avrebbe nessun senso un'altra cosa che posso fare è all'interno di una classe definire un'altra classe queste si chiamano classi annidate ci arriveremo si utilizzano per alcuni scopi molto ben definiti ma in generale le prime classi che scriverete e buona parte delle classi sono classi di primo livello quindi che si trovano in un file che ha esattamente lo stesso nome non so se ho risposto alla domanda allora gli argomenti della funzione strings vanno separati da spazio se potete usare la virgola no attenzione string quadre è il tipo args è il nome quindi args è il nome del parametro e string quadre è il tipo quindi string quadre questa cosa qui equivale vagamente a scrivere ve lo scrivo qua int main in c avremmo scritto int arg c e char quadre arg il nostro args equivale il nostro args equivale grosso modo ad argv vi dicevo prima che java fa dei controlli sull'accesso agli array e quindi vi dà un errore se voi cercate di accedere fuori dai limiti un'altra cosa che java fa è che mantiene la dimensione dell'array quindi in java io non ho più bisogno di avere un parametro che mi dice quanto è lungo l'array e poi l'array stesso perché dentro l'array c'è già la dimensione e quindi invece di avere due parametri in c necessari perché ho bisogno di avere la dimensione per poter accedere agli elementi in maniera sicura in java non è più necessario domanda quindi a livello di sintassi le quadre vanno vicino al tipo e non all'identificatore in java io posso scrivere in due modi lo posso scrivere sia così che con le quadre dopo quindi posso scrivere sia main string quadre che args scusatemi forse riusciamo a farcela ok quindi lo posso scrivere in questi due modi sia subito dopo che dopo il nome del parametro sono valide entrambe le sintassi string sì è un tipo java un tipo predefinito una classe predefinita in java fa parte delle libri non è esattamente un tipo ma è una classe vediamo poi vedremo la differenza però è definito in java fa parte delle classi base del linguaggio per cui in java non abbiamo più char star oppure char quadre per indicare le stringhe ma abbiamo oggetti tipo string che ovviamente sono un po' più sofisticati e un po' meno complicati da utilizzare ok quindi a questo punto termino sostanzialmente ve lo cenavo prima ve lo dico adesso di nuovo chiaramente questa sarà probabilmente l'ultima volta che utilizziamo la compilazione da linea di comando ok d'ora in poi tutti i prossimi programmi li faremo utilizzando Eclipse perché l'idea è di utilizzare qualcosa che viene utilizzato nella pratica ok la linea di comando si utilizza se abbiamo degli script di compilazione ma non è un qualcosa che viene utilizzato nella programmazione normale quotidiana da nessun programmatore quindi l'idea è di utilizzare degli ambienti che siano ragionevolmente simili a quelli che si utilizzano nella programmazione vera e propria quotidiana la scelta di Eclipse è stata dettata dal fatto che uno è un programma open source e quindi ciascuno lo può scaricare senza problemi due è un ambiente di sviluppo abbastanza diffuso in questo momento da qualche anno probabilmente non è più il primo ambiente di sviluppo perché quello più diffuso si chiama IntelliJ che è forse un po' più avanzato rispetto a Eclipse però diciamo che Eclipse continua a essere nei primi due ambienti di sviluppo utilizzati nella 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 pratica industriale intendo e quindi l'altro aspetto è che tutto sommato se voi imparate ad utilizzare Eclipse utilizzare IntelliJ non è molto diverso hanno una struttura abbastanza simile quindi che cosa è successo è successo questo allora domanda quando chiamiamo un programma scritto in Java si chiama una classe che contenga un metro main sì allora quando io vado a menzionare una classe di avvio quella classe deve contenere il metro domain perché è l'entry point della classe sì se non mettete il metro domain la Java virtual machine vi dice che non riesce a trovare quel metodo e quindi termina e non esegue nulla quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo preso la nostra classe la nostra classe non first ma prima l'abbiamo compilata con il compilatore abbiamo ottenuto il bytecode corrispondente che è first.class o nel nostro esempio prova e poi abbiamo chiamato la Java virtual machine e gli abbiamo passato come parametro il nome della classe in cui andare a cercare il metodo main da cui iniziare l'esecuzione vi faccio notare perché è un errore tipico se uno cerca di replicarlo al volo che mentre quando faccio la compilazione devo specificare .java quando invece vado a fare l'esecuzione devo semplicemente mettere il nome della classe senza nessuna estensione quindi se io scrivo first.class quindi java first.class il compilatore mi dice che non trova la classe perché? perché semplicemente prende quel parametro lo interpreta come il nome della classe e quindi presuppone che esista un nome che ha presuppone che esista un file che ha come nome quel parametro .class e quindi se io scrivo first.class la virtual machine mi cerca first.class .class che ovviamente non trovo i due componenti che vedete qua quindi il compilatore e la java virtual machine sono parte del JDK JDK sta per java development kit e ovviamente il JDK contiene oltre al compilatore tutta un'altra serie di programmi di contorno debugger il programma java doc che vi menzionavo prima che prende i commenti che stanno nel codice e vi genera la documentazione un profiler per andare a vedere le performance ovviamente tutte le librerie standard eccetera risultato di questa chiamata la virtual machine che cos'è che la virtual machine va a prendere il file punto classe lo interpreta partendo dalle istruzioni che sono presenti dentro il metodo main e quindi genera java quindi non punto class per la compilazione ma punto java perché il file di testo da cui parto ha come estensione java quindi first.java per la compilazione e first semplicemente per l'esecuzione o prima punto java e prima nel caso dell'esempio che abbiamo appena visto ok a questo punto piccolo dettaglio probabilmente lo sapete se non lo sapete ve lo dico io buona parte dei file che noi andiamo a scrivere e che i programmi vanno a scrivere contengono all'inizio una sequenza di byte che permettono di andare a verificare che il file sia del tipo corretto qui ad esempio tutti i file pdf iniziano con i 4 caratteri che sono i codici ASCII di %pdf quindi questi questi 4 byte si chiamano di solito magic number e permettono di andare a identificare il tipo di un file oltre la sua estensione quindi l'estensione può essere utile ma questi 4 byte mi danno se volete la controprova che il tipo del file sia corretto ecco i primi 4 file scusate i primi 4 byte dei file class se riportati in es decimale sono ca fe ba e be cafe babe java per chi non lo sapesse è anche il nome di di un'isola e di una varietà di caffè che è coltivata in quell'isola quindi chi ha sviluppato java era un patito del caffè tipo java e c'è anche nel numero magico che è all'inizio dei file bytecode punto class quindi abbiamo detto che java oltre ad essere un linguaggio è anche tutta una piattaforma per cui noi in generale parliamo di ecosistema java perché oltre al linguaggio con le sue caratteristiche specifiche c'è tutta la piattaforma che include la virtual machine le librerie quelle che normalmente chiamiamo API in realtà l'API è il modo di interagire con queste librerie e l'SDK l'SDK sta per software development kit quindi compilatore e tutto quanto c'è intorno al compilatore che serve per lo sviluppo debugger il programma per andare a vedere il contenuto bytecode dei file eccetera eccetera ok non entriamo troppo nel dettaglio questo corso tutto sommato è un corso introduttivo a java quindi non non esploreremo tutte le caratteristiche di java ma soltanto quelle principali un aspetto molto importante che ho accenato prima è la capacità della java virtual machine di caricare in maniera dinamica quindi al volo tutte le classi man mano che sono necessarie e questo lo fa sulla base di quello che si chiama un class path ovvero un percorso sul file system in cui si trovano i file punto class quindi bytecode da caricare quindi quando io do un nome un parametro alla virtual machine che cosa succede la virtual machine carica il bytecode corrispondente a quella classe e se quella classe ne utilizza un'altra dopo aver caricato la prima classe visto che c'è un riferimento a una seconda classe la virtual machine che cosa fa carica anche la seconda classe eccetera ovviamente il class path può includere un'unica cartella folder o tante normalmente il class path include due posizioni una è la cartella corrente l'altra è la cartella in cui si trovano tutte le librerie perché la classe string che abbiamo visto velocemente un attimo fa è un'altra classe e quindi quando utilizzo la classe string la java virtual machine dovrà caricare il bytecode corrispondente a quella classe quindi normalmente cosa succede il class path è una serie di posizioni sul file system in cui la virtual machine deve andare a cercare le classi quindi ogni volta che cerco una classe X cerco la virtual machine cerca quella classe nella prima posizione se la trova la carica altrimenti va nella seconda posizione sul class path se la trova la carica altrimenti prosegue di questo passo se alla fine di tutte le posizioni menzionate nel class path non trova il file X.class allora dice che non riesce a caricare la classe abbiamo già visto ad esempio di prima quindi che cosa succede il comando java.first o java.prima cosa fa prende il nome della classe cerca il byte corrispondente quindi cerca first.class o prima.class carica il bytecode va a vedere se all'interno di questo bytecode è definito un metodo main e inizia a eseguirlo se qualcosa va storto ovviamente viene segnalato un errore java permette di andare a sviluppare diversi tipi di programmi quello più semplice che sostanzialmente sarà quello che principalmente andremo a sviluppare noi in questo corso sono le applicazioni che sono sostanzialmente equivalenti ai programmi che scriviamo in C l'unica differenza è che in C io posso eseguirli direttamente sulla mia piattaforma in java ho bisogno della virtual machine qualunque applicazione ha un entry point che è dato dal metodo main che abbiamo visto prima questo è il tipo di programma standard che noi andiamo a creare ma posso anche andare a creare degli applet che vi dicevo prima sono dei piccoli programmini che io posso far funzionare all'interno del mio browser non credo che attualmente ci siano più se non siti web preistorici degli applet all'interno delle pagine web perché ovviamente la virtual machine deve essere invocata dal browser gli si deve passare il codice da eseguire e a questo punto deve eseguirlo è un'operazione molto complicata e pesante quindi non l'utilizza più nessuno posso sviluppare dei servlet che sono sostanzialmente dei piccoli moduli che vengono eseguiti all'interno di un server web e vengono chiamati quando devo fare un'operazione dinamica non so devo andare a visualizzare il carrello che ho appena riempito per la mia spesa online ecco chi mi costruisce la pagina con l'elenco e tutto quello che ho messo nel carrello è probabilmente un servlet abbiamo dei midlet che sono pensati per telefoni che utilizzano la java 2 micro edition e poi abbiamo le applicazioni android android è un sistema operativo che è sostanzialmente basato su java e quindi le applicazioni android solitamente vengono scritte in java da un paio di anni a questa parte oltre a java c'è un altro linguaggio derivato da java che si chiama kotlin con la k che è una sintassi molto simile a java e usa la stessa virtual machine quindi quando io compino un programma scritto in kotlin genero sostanzialmente del bytecode a questo punto il bytecode è indistinguibile che io l'abbia generato a partire da java o da kotlin sostanzialmente non cambia nulla è il bytecode che viene eseguito dalla java virtual machine il linguaggio di riferimento abbiamo detto per questo corso è java 8 e quindi la documentazione è tutta quella che trovate lì online è il caso qualcuno mi faceva prima domanda quali della letteratura consigliata conviene acquistare allora ci sono vari libri che descrivono java alcuni più voluminosi che magari vi danno l'elenco di tutte le librerie java ecco l'elenco di tutte le librerie java lo trovate online nella documentazione standard quindi se voi preferite averlo su carta ha senso comprare un libro cartaceo altrimenti diciamo che il 50% di una parte dei libri non fa altro che riprendere la documentazione online magari in altro formato in maniera più sintetica quello che volete però voi ce l'avete online e quindi immediatamente disponibile quindi non è necessario comprare un libro cartaceo che vi ripeta quello che trovate direttamente online e che è quello che consulterete costantemente nel momento in cui voi dovete andare a programmare ok Eclipse scusate qui c'è ancora il link vecchio che vi correggo di Eclipse non è più Oxygen ma è 2020-12 alcuni dettagli su Java normalmente Java utilizza alcune convenzioni di codifica abbastanza universali nel senso che qualunque sviluppatore Java al mondo usa queste convenzioni quindi ragionevolmente dovreste utilizzarle anche voi in particolare quando abbiamo degli identificatori che sono composti da più parole invece di utilizzare l'underscore per andare a collegare queste parole come normalmente si fa in C in C la convenzione prevede di utilizzare l'underscore in Java si utilizza quella che si chiama Camelback Capitalization dove le iniziali B e C dei nostri delle nostre parole che compongono l'identificatore vengono messi in maiuscolo e il resto in minuscolo i nomi delle classi solitamente sono tutti maiuscoli mentre invece i nomi dei metodi delle variabili eccetera sono tutti minuscoli l'iniziale è minuscolo poi se è un composto potrebbe avere le iniziali delle altre parole maiuscole le costanti esattamente come avviene in C sono tutte maiuscole ovviamente non potendo utilizzare Camelback Capitalization quando abbiamo a che fare con un identificatore tutto maiuscolo sulle costanti utilizziamo gli underscore per separare le parole un'altra cosa importante è usare i rientri l'indentation in maniera corretta perché perché se avete due o tre blocchi di testo annidati e non sono rientrati correttamente non ci capite più nulla quindi occhio a usare l'indentation giusta perché altrimenti nel codice non capite più nulla è anche vero che Eclipse tendenzialmente vi fa automaticamente questo indentation e potete chiedergli di riformattare un blocco di codice sistemandola quindi sfruttate queste caratteristiche in modo da avere il codice pulito è facile da leggere altrimenti vi complicate la vita da soli beh questo è un esempio di codice vedete il nome della classe inizia con la maiuscola usa camelback perché è composto la costante P è tutta maiuscola il nome di un attributo del metodo della variabile sono tutti con l'iniziale minuscola finora abbiamo visto un esempio molto molto semplice in cui ho un'unica classe con un metodo main e basta in un programma di ragionevole non abbiamo un'unica classe ne ne abbiamo tante quindi a questo punto come faccio una volta che io ho il mio bytecode a distribuirlo a chi dovrà utilizzare il programma posso prendere i file e mandagli uno per uno oppure posso utilizzare il modo standard java che è quello di andare a prendere tutti i file bytecode quindi punto class metterli dentro un file archivio che si chiama jar e distribuire poi questo jar quindi cominci quando io ho tanti file oggetto li compongo assieme e ottengo un file eseguibile in java quando ho tanti bytecode li posso mettere assieme e ottengo un jar un jar sostanzialmente è un archivio compresso praticamente un file zip che oltre a contenere i file punto class quindi il bytecode contiene alcune informazioni aggiuntive quindi alcuni file contenuti che hanno qualche qualche elemento in più domanda non ho messo la registrazione no la registrazione non la sto facendo con zoom lo sto facendo separatamente in locale però c'è la registrazione attiva quindi l'idea è che il modo standard di andare a rilasciare il mio programma che è normalmente composto da tante classi è di andare a costruire questo jar c'è per un punto un'applicazione sempre nel JDK che si chiama jar che permette di costruire questo file l'estensione è sempre punto jar e la Java Virtual Machine è in grado se io do il nome di un file scusate il nome di una classe il cui bytecode si trova all'interno del jar la Java Virtual Machine è in grado di automaticamente aprire il jar e caricare la classe direttamente quindi è il modo standard supportato anche dalla Java Virtual Machine per andare a distribuire non una classe ma un insieme di classi che costruiscono il nostro programma questi sono i comandi per generarlo ma ci interessano relativamente poco molto spesso quando io ho un jar vado a identificare quella che è la main class ovvero la classe che contiene il metodo main da cui inizia l'esecuzione ad esempio questa è una delle informazioni aggiuntive rispetto a un banale zip e a questo punto quando io passo il jar alla mia Virtual Machine la Virtual Machine automaticamente inizia ad eseguire il metodo main che si trova in quella classe alcune vi anticipo su alcune domande tipiche confronto tra Java e C allora dipende da qual è l'aspetto su cui vogliamo andare a confrontare Java e C in termini di prestazioni C tendenzialmente è meglio di Java quindi se avete bisogno di prestazioni nude e crude il linguaggio da utilizzare è probabilmente C le prestazioni di C però non sono così esageratamente migliori di Java soprattutto le versioni ultime di Java le versioni ultime di Java hanno le Virtual Machine hanno una tecnologia che si chiama JIT just-in-time che sostanzialmente prende il bytecode lo traduce in codice binario nativo per la piattaforma su cui sta funzionando e quindi invece di andare a interpretare il bytecode esegue direttamente il codice nativo a questo punto la differenza rispetto a C non è più così significativa ovviamente la Virtual Machine fa un sacco di controlli aggiuntivi ma le prestazioni sono nell'ordine di qualche percentuale in più rispetto a al C perché non abbiamo cominciato direttamente da Java non ho capito cioè intendi come corso come corso di studi non come come insegnamento di programmazione degli oggetti perché storicamente si è sempre iniziato col primo corso di informatica che era in C probabilmente sapete che da quest'anno il primo corso di informatica non è più in C ma in Python che vi isola isola cioè non voi ma chi quest'anno ha fatto il primo anno dà le complicazioni della sintassi C poi la risposta completa a questa domanda richiederebbe una lezione intera quindi magari la rimandiamo altri aspetti importanti su cui andare a fare una valutazione sono la facilità di uso qui ovviamente Java è molto più semplice la sintassi C soprattutto quando avete a che fare con i puntatori è complicata e utilizzare i puntatori di per sé è complicato in Java tutto questo è molto più mediato dal linguaggio e quindi più semplice e soprattutto più sicuro nel senso che siete più limitati nel senso che C permette di fare qualunque cosa potete accedere a qualunque locazione di memoria senza problemi in Java questo non è possibile quindi siete limitati ma avete anche limitato la possibilità di commettere degli errori in Java tendenzialmente non è possibile generare un eseguibile abbiamo visto che si passa dalla virtual machine questo è il modo standard esistono dei compilatori ad esempio il compilatore GNU che è in grado di prendere Java e bytecode e generare un file eseguibile ok però è una cosa che normalmente non si fa è possibile farlo in casi molto particolari ma non è la norma un problema che potreste avere avete scaricato JDK ma non avete la possibilità di compilare i programmi verificate di averlo scaricato correttamente verificate che da linea di comando scrivendo Java il tutto funzioni altrimenti vuol dire che probabilmente non è stato impostato il path corretto sul vostro pc dall'installazione altra piccola nota Eclipse che vedremo diciamo a partire dalla prossima lezione ha un compilatore diverso quindi non usa il compilatore Java C ma ha un suo compilatore interno che gli permette di compilare al volo man mano che voi scrivete all'interno dell'edito quindi attenzione perché il comportamento magari i messaggi d'errore che ottenete in Eclipse potrebbero essere leggermente diversi rispetto a quelli che ottenete da un compilatore Java C questo l'abbiamo detto prima sul find not found giusto per riepilogare abbiamo detto che Java è un linguaggio praticamente orientato agli oggetti quasi puro è interpretato tramite la virtual machine abbiamo anche visto come possiamo fare utilizzare la virtual machine e compilare è estremamente robusto perché non utilizza puntatori espliciti e quindi limita le possibilità di errore ha tantissime librerie che possono essere utilizzate e sono soprattutto standard quindi una volta che le avete imparate le riutilizzerete ovunque e può essere utilizzato per andare a sviluppare diversi tipi di programmi mi raccomando quando scrivete programmi Java utilizzate le convenzioni di codice quindi le maiuscole eccetera ma se utilizzate Eclipse all'interno di Eclipse queste convenzioni vengono automaticamente fatte e ricordate vi ricordo velocemente mentre ci siamo allora fatemi cambiare la condivisione ok di ok eccoci qua allora questa è Slack all'interno all'interno di Slack ci sono tre canali uno per ognuno dei tre corsi paralleli per cui se avete domande specifiche su quello che avete visto a lezione con me fatele dentro il mio canale non andate a chiedere ai colleghi cosa ho detto io oggi esiste poi un canale general in cui ci saranno avvisi generali che riguardano tutti e tre i corsi per cui ad esempio l'inizio delle esercitazioni e alcune indicazioni vengono fatte qui dentro e poi ci sono due canali che sono Java e SE che sta per software engineering in cui voi potete andare a fare domande generali sul linguaggio Java e su software engineering qui a parte di teoria quindi se avete domande specifiche su qualcosa che ho detto a lezione fatelo nel canale del corso se avete domande generali su Java o su alcune caratteristiche o sui argomenti che vedremo di ingegneria del software fateli qui dentro perché le risposte saranno disponibili poi a tutti quindi io rispondo una volta sola automaticamente tutti vedono la risposta e poi c'è un canale laboratori che servirà per le domande e l'interazione durante i laboratori quindi durante i laboratori qui potrete fare domande riceverete risposte e supporto la pagina del corso è questa ci sono tutti i link fondamentali all'inizio ricordatevi di scrivervi a Slack perché è il modo poi di interagire direttamente e tra le altre cose volevo farvi vedere velocemente questo javadoc API che vi porta a quelle che sono le librerie standard la documentazione delle librerie standard di java per cui ad esempio l'unica classe che abbiamo visto finora scusatemi eccoci qua la classe string è documentata qua e vi dice come è fatta vi da qualche esempio e vi dice qui tutti i metodi che avete a disposizione nella classe per poter andare a manipolare delle stringhe questo è un pezzo di documentazione che voi avrete sempre sotto mano perché ovviamente è impossibile che uno ricordi a memoria tutti i dettagli tutti i metodi di tutte le classi per cui nel momento in cui non vi ricordate un dettaglio questo è il posto in cui andare a cercare ovviamente anche durante l'esame di nuovo non ha senso perché nessun programmatore al mondo si ricorda tutti i dettagli di tutte le classi ovviamente se per ogni classe che utilizzate per ogni metodo che utilizzate dovete andare a vedere la documentazione con l'esame lo fate in 20 ore non in due però se vi capita un dubbio non vi ricordate un dettaglio ecco questo è sempre a disposizione ed è il luogo dove andare a cercare i dettagli direi che con questo per oggi abbiamo concluso se avete domande o altre curiosità potete tranquillamente andare su slack noi ci rivediamo giovedì mattina con chi ci sarà con chi ci sarà in aula e con gli altri ovviamente in remoto come adesso ok se non avete domande dell'ultimo secondo direi che per oggi vi saluto abbiamo dato un inquadramento generale da giovedì iniziamo a vedere le cose fondamentali di java ok io inizio a mettervi una lezione poi oggi pomeriggio da iniziare a vedere su java e i contenuti di quella lezione poi li riprenderemo comunque nella lezione sincrona in diretta di giovedì mattina buona giornata e buone installazioni se non l'avete già fatta arrivederci io inizio a mettervi è che che Grazie.